ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ha iniziato il periodo dei video di settembre che bello sentito un rumore abbiamo andiamo a vedere c'era un rumore proprio da queste parti ok ragazzi come state quanto tempo è passato non ci vedevamo davvero da un botto di giorni tipo quanti giorni sono passati aiutatemi voi a ricordarli comunque oggi in teoria dovrebbe essere primo settembre e anche in pratica è primo settembre però sto registrando questo video ad agosto metà agosto quindi mi sto sostanzialmente pre registrando tutti questi video che voi vedrete nel periodo di settembre almeno questa volta riesco a farveli uscire tutti quanti è la strategia inoltre la persona che sta registrando in questo momento facciamo vedere voi non saprete mai chi è salve persona misteriosa dici qualcosa quindi la vedrete per molto tempo nei miei blog che cosa andremo a fare quest'oggi a aspettate adesso tutti devi iscrivere al canale per forza chi è arrivato che dici è tornato reda sul canale e c'è anche un ospite speciale oggi allora che mi racconti che stai facendo caffettino caffettino c'è un problema non abbiamo la macchina per spostarci perché anonymous non ce la vuole dare la macchina vero questa è la mia nuova macchina bene è una cosa normale normalissima proprio ragazzi ho una novità per voi in molti mi avevate chiesto nell'ultimo periodo di fare una sorta di merchandising il sito ancora in elaborazione più in là indosserò soltanto il mio merchandising quindi preparatevi perché a breve tante novità questo era in sostanza ok ciao allora qua qualcuno mi sta sfidando stanno insinuando che io non sono in grado di prendere reda sulle mie spalle perché che cosa vogliamo fare voi non ripetete quello che facciamo e soprattutto guardate sempre quando attraversate la strada reda deve salire sul mio terrazzo facciamo vedere se carico allora devi mettere i piedi riprendi bene riprendi bene vieni qua davanti ma si vieni ok ma non ci arriverò mai ma così dove devi stare sulle mie spalle metti mi fa a me salire allora vangi su così bravo ancora e adesso e adesso dobbiamo arrivare da giù ce la facciamo devo camminare piano qualcuno deve raggiungere da dietro ce la fai casco sei sicuro ti reggo non può fallire così questa cosa non può fallire così questa cosa deve funzionare ok no dobbiamo trovare un modo dobbiamo trovare un modo adesso abbiamo cristiano che non c'è il figlio mamma questa cosa la faremo prima o poi la faremo ciao mi chiamo luiz torniamo a casa mia c'è adesso che sta facendo lezioni di canto adesso noi la disturberemo in maniera molto gentile che c'è sempre anonymous che facciamo suoniamo apriamo con le chiavi apri con le chiavi non mi danno il copyright con questo no 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 ciao ciao madre come stiamo ciao maia vieni qui subito immediatamente regaliamo 5 like a questa persona per le 3 allora mammina rimine come procedete la vita si va a manni smeriti ma mi sono scontro con mamma tutti voi sapete chi è la conoscete no ha fanno numero uno delle fanno però la fan è diventata una delle mie più cari amici Questo bellissimo sticcio me l'ha regalato proprio la ragazza qui al mio fianco Dovete sapere che lui è la mia seconda fonte di salvezza Sono una persona cattiva Non si possono dire certe cose su youtube andiamo fuori andiamo a vedere fuori chi c'è C'è una preda lì fa vedere la preda si sta dormendo Ma quanto sei stupido Ehi tu come stai vieni Non vuole giocare saluta tutti loro ma perdi pelo C'è un piccolo rospetto qua amori Ho sempre fame che amoroni Occhio ci stanno dei bambini che guardano eh cosa fai questo rido a caso ti posso fare una domanda? Dimmi tutto caro ma perché sei così Anonymous Ma che bella c'era che hai Ti amo Amante segreta Chi era l'amante L'amante Come tuo fratello Vabbè il fratello e l'amante Che è successo bro Vabbè non mi riprenda un attimo Red è molto losco Io mi preoccuperei Perché Dove devi andare Ossia antica E' il mio fratello un attimo Chi mi vuoi accompagnare Anonymous alla macchina Dopo accompagnare Aspetta un attimo Carissa è un po' agitata Facciamo uno scherzo Che ci possiamo fare Allora Pensiamo un attimo Bello No ce l'ho ce l'ho Tu accompagnalo Dove deve andare lui Prenditi le chiavi Così dopo quando risali Te apri tu E lui mi becca Con lei Allora facciamo così Ma io dico si può parlare in bagno al telefono Quindi ci abbandoni proprio così Sta proprio andando così E' una cosa in altra Devo andare Ma una cosa in altra che Ciao Buon torno Ci vediamo dopo Ha detto il nome di Anonymous A dopo Ok Siamo rimasti soltanto io e Clarissa Dobbiamo capire un attimino Come impostare il tutto Visto e considerato che la mia stanza È davvero molto piccola Quindi è infattibile nascondere la videocamera Per il tipo di scherzo che dobbiamo andare a fare Abbiamo scelto la camera Di mia madre Che comunque è bella grande Quindi possiamo nasconderla dappertutto La videocamera dove vogliamo Però dove O la Dici la O la mettiamo qua Però qua poi non si vede lui Ragazzi è difficilissimo nascondere la videocamera La porta la chiudiamo a chiave Che dici? Perché è brutto io che mi alzo io vado ad aprire Certo no Devi vedere la scena subito Deve essere una cosa proprio D'impatto D'impatto e diretta Quindi Porta aperta Porta aperta Cioè aperta nel senso Porta chiusa però non chiusa Fa chiave Ok che si può aprire così E la telecamera che ne so Qua dai Per forza Dobbiamo mettere qua Però ci devo mettere qualcosa sopra Perché sennò così la sgamano Proviamo un po' tipo con questo Va bene dai Noi ci mettiamo qua sopra Cioè immagino Ieri Cioè 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 Per l'altro No parla perché Sul letto ti sei in camera No No ma non hai capito Perché dell'altro Ma che c***o Ma ti ha venuto in mente Amor l'altra camera è occupata Oh No no Ti conosco da quattro anni Mi fa stesse c***e A me Fra ma te pare Ma pure te che c***o stai Ma non fa niente Ma non fa niente Ma non fa niente Ma che c***o avevo pensato Entrano qua dentro Mi vedo voi due sopra il letto A scherzare a dire Ma che c***o fate oh Vabbè re Ma ma c***o Non mi dispiace Zittate Zitta Mi dispiace Zitta Oh non mi tocca Non ti avvicina proprio Fra mi dispiace che la pensi così Mi dispiace Ma mi dispiace Ficca della c***o Vabbè Ma perché devi pensare per forza Che stavamo fatta con c***o Uno entra dentro una camera chiusa Non lo so Uno sul letto L'altro pure Dai ditemi che stavate facendo Stavamo qua giocando a carte Stavamo parlando Stavamo parlando Stavamo parlando Che ti lascia Che ti lascia Ma che Io non mi parla più te manco Rai ma non è che C***o Ma non è che c***o C***o Amo Sai Sai Re Re Oh Ah bro Guarda un favore Bro È un prank È un prank Bro È un prank Non hai visto la videocamera Ma pure te Io dico Mi conosci da 4 anni Ma ti pare che non sai che faccio sti scherzi Ecco la coppia Per i appacificarsi Mi dispiace però questo video lo dovevo fare per forza Quindi ragazzi mi raccomando Voglio un bel mi piace adesso in questo momento Perché Reda La videocamera Ok gente quindi questo era il video Se vi è piaciuto mi ricordo di lasciare un bel like Che è sempre gratuito Non costa niente quindi Spaccate quel bottone del mi piace adesso Si ordina la pizza Ah proprio così E noi non ci ordini niente? Ci mandi a cena fuori a spendere il cash? Ma in realtà sta su facebook Mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Attivate la campanellina molto importante Ok Vi siete iscritti? Bene E noi ci vediamo domani Domani Sempre alle ore 11 Con un nuovo video Perché ogni giorno Ogni giorno Un nuovo vlog Qua c'è Anonymous qua dietro Non inquadrare Anonymous Ti ringrazio Per aver visto Questo video Ci vediamo domani Alle 11 Ciao 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 Ciao